XT 104BT di Trevi è un altoparlante verticale a torre, un sistema audio amplificato ideale per l'intrattenimento. Con la Sound Tower di Trevi, grazie ai suoi 50 W, potrai amplificare l'audio della tua TV, ascoltare i tuoi brani direttamente da memoria USB, microSD e collegare i dispositivi esterni agli ingressi aux in. Grazie alla connessione Bluetooth, potrai trasmettere le tue playlist anche da smartphone e tablet. Dotato nella parte superiore di una base d'appoggio per i dispositivi esterni, XT 104BT è in grado di ricaricare smartphone e tablet tramite una presa USB dedicata. Ideale anche per chi ha poco spazio, con XT 104BT di Trevi potrai ascoltare la tua musica preferita a tutto volume, grazie ai due woofer e subwoofer laterale, e controllare tutte le funzioni tramite il pratico telecomando full control in dotazione. Godi appieno di tanta buona musica e di interessanti performance musicali con l'altoparlante amplificato a torre Trevi XT 104BT. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti